Ciao a tutti e benvenuti all'oroscopo di oggi. Oggi vi porteremo le ultime notizie astrali e gli influssi planetari che influenzeranno la vostra vita. Sarà un viaggio emozionante attraverso le stelle, quindi preparatevi a scoprire cosa il destino è in serbo per voi oggi. Senza ulteriori indugi, iniziamo questa avventura astrologica insieme. Segno Ariete Ariete, oggi è il giorno per accogliere idee audaci e metterle in pratica. La tua natura dinamica e determinata ti dota della capacità di iniziare il cambiamento con coraggio. Fidati della tua fede e delle tue capacità guida. Non esitare a compiere i cambiamenti necessari e cogli le opportunità di trasformazione che si presentano. Amore, grazie alla presenza di Marte, l'Ariete può fidarsi della propria fortuna personale. Forse alcune persone ammiratrici si avvicineranno contemporaneamente? Sai esattamente cosa desideri. I piccoli regali spesso funzionano altrettanto bene dei grandi. Lavoro e denaro, oggi è un buon giorno per brillare con nuove soluzioni. Tuttavia, devi distribuire le tue energie, poiché non sei molto resistente. Sei molto allegro, ed è per questo che sarebbe terribile se un contrattempo cambiasse il tuo umore oggi. Questo piccolo fallimento potrebbe farti pensare che la vita ti stia ostacolando, ma non dovresti pensarla così immediatamente. Quello che è successo potrebbe essere colpa tua, ma solo gli esseri umani commettono errori, e non dovresti punirti per questo. Segno Toro Toro, oggi porta prosperità materiale continua e una crescita finanziaria stabile. La tua natura pratica e determinata ti aiuta a accumulare costantemente ricchezza. Concentrati su decisioni finanziarie sensate e investimenti per consolidare la tua sicurezza finanziaria. Goditi la sensazione di sicurezza e comfort che la stabilità finanziaria ti offre, sapendo che il tuo impegno per lo sviluppo finanziario porterà al successo. Amore, anche oggi, la tua situazione con la tua persona speciale non migliorerà, quindi dovresti considerare attività leggere e divertenti con il tuo partner, il che potrebbe promettere varietà. Lavoro e denaro, oggi dovresti fare attenzione ai tuoi colleghi. Avere un buon rapporto con il capo può suscitare gelosie, ma non tutti i consigli sono traditori. Marte supporta la vendita online Il lato positivo di Marte porta buona fortuna in ogni area. La posizione delle stelle crea un crescente senso di inquietudine nel tempo. Questo ti fa pensare di essere inadeguato nel lavoro, nelle relazioni sociali e persino verso te stesso, ma non è altro che un'illusione della realtà. Prova a riflettere, questo è solo un pretesto perché quando sei di buon umore, non pensi mai a cose così negative. Segno Gemelli Gemelli, oggi è contraddistinto dalla tua capacità di comunicare chiaramente ed essere persuasivo. La tua mente curiosa è adattabile e celle nel trasmettere efficacemente idee. Partecipa a conversazioni che richiedono intelligenza acuta e le tue capacità persuasive. Le tue parole sono strumenti, usale saggiamente per esprimere le tue idee e influenzare positivamente gli altri. Amore, dedica la tua attenzione al tuo partner oggi. C'è bisogno di una spalla su cui appoggiarsi e di alcune parole gentili. Lavoro e denaro, non risolvere a metà le questioni, così tutto andrà bene. Anche se qualcuno è contrario a te, non tutti i suggerimenti tradiscono. Marte sostiene le vendite online. Il lato positivo di Marte porta buona fortuna in ogni area. La posizione delle stelle crea un crescente senso di inquietudine nel tempo. Questo ti fa pensare di essere inadeguato nel lavoro, nelle relazioni sociali e persino verso te stesso, ma non è altro che un'illusione della realtà. Prova a riflettere, questo è solo un pretesto perché quando sei di buon umore, non pensi mai a cose così negative. Segno Cancro. Cancro, oggi ti incoraggia a concentrarti sulla guarigione delle emozioni e approfondire le relazioni familiari. La tua natura nutritiva e empatica ti guida a coltivare i legami con i tuoi cari. Dedica del tempo di qualità alla tua famiglia, esprimi amore e crea ricordi duraturi. Apprezza il calore e l'affetto delle tue relazioni familiari mentre la connessione emotiva e l'unità diventano più profonde. Amore, a causa dell'influenza di Marte, è probabile che tu incontri difficoltà nelle tue questioni private. Non spingere le cose al limite o cercare di forzarle. È meglio parlare dei sentimenti negativi in modo dettagliato. Lavoro e denaro, oggi è un'ottima opportunità per discutere con il capo questioni finanziarie. Sarà disposto ad ascoltarti e a sostenere le tue idee. Questo porterà a una collaborazione costruttiva e a ulteriori progressi. Hai iniziato un nuovo lavoro e è normale sentirsi un po' spaesati, cancro. Nel tuo lavoro precedente, avevi buoni rapporti con i colleghi e desideri riacquistare quella sensazione. Sei impaziente di fare nuove amicizie e avere il tuo piccolo gruppo, ma queste cose richiedono tempo. Segno Leone. Leone, oggi è il giorno in cui i tuoi raggi di luce creativa continuano a risvegliare la tua fonte di ispirazione. La tua energia affascinante e la ricca immaginazione spingono i tuoi sforzi artistici e creativi. Approfondire i progetti ti permette di esprimerti in modo audace e autentico. Condividi il tuo talento con il mondo e lascia che la tua creatività brilli intensamente. Cogli l'ispirazione che sta accadendo e raggiungi il picco della tua espressione creativa. Amore, il Leone di solito è molto energico e dominante. Oggi potrebbe imparare qualcosa di nuovo. Non deve necessariamente dettare il ritmo. In particolare nell'amore, dovrebbe lasciare che l'amore lo guidi e concedersi un po' di relax con la persona giusta. Lavoro e denaro, oggi il Leone dovrebbe lavorare duramente. Evita di fare commenti affrettati. Stai venendo attentamente sorvegliato e qualcuno sta cercando di prendere il tuo posto. Fai attenzione ai tuoi colleghi. Recentemente, hai prestato più attenzione agli amici e alla famiglia rispetto ai tuoi partner, vero? Lo hanno notato. Forse non ti hanno ancora detto nulla, ma è evidente che stanno diventando sempre più irritati da questa situazione. Sai che hanno ragione, quindi prima che si arrabbino, cerca di fare qualcosa per loro, così non ti dimenticheranno. Segno vergine. Oggi la vergine si impegna a gestire il lavoro con dedizione ed efficacia, superando le sfide. La tua natura pratica è orientata ai dettagli ti dà la capacità di affrontare responsabilità con precisione. Avvicinati ai tuoi compiti con una mentalità risoluta e impegnati per raggiungere l'eccellenza. Goditi la soddisfazione di completare il lavoro con successo, sapendo che la tua determinazione ti condurrà al successo. Amore, oggi ci sono molti elogi significativi grazie all'influenza di Mercurio. Dovresti anche concedere spazio alle emozioni. Le stelle ti stanno dando il via libera per farlo. Perché sperare in qualcun altro quando hai la capacità di farlo? Lavoro e denaro. Oggi è una giornata dedicata a discussioni approfondite con i tuoi superiori per presentare le tue idee e pensieri validi. Sarai ascoltato perché le tue opinioni, idee e esperienze sono importanti. Hai responsabilità e progetti molto importanti come Vergine, e non puoi trascurarli per andare a bere qualche birra. Dopo aver adempiuto ai tuoi doveri, puoi unirti a loro se sono ancora disponibili. E se no, ci saranno molte altre occasioni per stare insieme, vero? Questo è ciò che conta. Segno bilancia. Oggi la bilancia enfatizza l'importanza della stabilità nell'armonia e nell'equilibrio delle relazioni. La sensazione di equilibrio e le tue abilità innate di mediazione guideranno le tue interazioni con le persone care. Priorità alla comunicazione aperta e all'armonia, promuovendo la comprensione e la conciliazione. Apprezza la bellezza delle relazioni equilibrate e armoniose, e sappi che il tuo impegno per il bilanciamento manterrà l'armonia e la comprensione. Amore, il tuo partner sta difendendo con determinazione le sue opinioni. È difficile vincere una discussione oggi. È meglio piegarsi, è l'unico modo per evitare problemi più grandi. L'armonia tornerà presto a dominare. Lavoro e denaro, con determinazione, otterrai oggi ciò che desideri. Creerai nemici non necessari nel tuo ambiente di lavoro se non lo fai. Lavora insieme ai tuoi colleghi e superiori, ti aiuterà a fare progressi. C'è un argomento che trovi estremamente attraente, ma che ti spaventa. Bilancia, questa non è la prima volta che le tue insicurezze ti bloccano e ti impediscono di intraprendere progetti interessanti. Poi provi rimpianto, ma questo accade quando il treno è già passato. Segno Scorpione. Lo Scorpione, oggi, ti condurrà in una costante esplorazione di te stesso e delle profondità interiori. La tua natura intensa e profonda ti permette di scoprire aspetti nascosti di te stesso. Impegnati nell'autoriflessione, nella guarigione interiore e nella pratica spirituale. Sfrutta la potente forza trasformatrice della consapevolezza, sapendo che la tua capacità di rivelare profonde intuizioni continua a crescere, promuovendo ulteriormente il tuo sviluppo personale. Amore, lo Scorpione è un cacciatore perfetto. Se qualcuno è interessato a te, diventerà un cuore infranto e darà tutto. Oggi ci sarà un corteggiamento appassionato. Potrebbe portare a molto di più. Goditelo e si sorpreso. Lavoro e denaro, mantieni i contatti, soprattutto con i tuoi superiori che potrebbero aiutarti. Dal punto di vista finanziario, sei al sicuro. Ci sono momenti in cui ti senti insoddisfatto sia della tua salute che della tua forma fisica. È ovvio che questo sia dovuto a una dieta poco salutare che hai seguito per un po'. Sta danneggiando la tua salute. Metti da parte i biscotti e i dolci e introduci più frutta e verdura per trovare un equilibrio sano tra di loro. Segno Sagittario. Oggi Sagittario ti incoraggia a perseguire coraggiosamente avventure affascinanti con entusiasmo. La tua energia libera e ottimista ti spingerà verso opportunità eccitanti. Cerca viaggi, impara dall'esperienza e abbraccia sfide per accendere il tuo spirito avventuroso. Goditi l'emozione delle nuove avventure e dello sviluppo personale che portano con sé sapendo che la tua infinita passione rende ogni viaggio più interessante. Lavoro e denaro, oggi è il momento ideale per dire no a un collega. Riafferma te stesso, le stelle ti sosterranno oggi e ti daranno la forza necessaria. Tuttavia, dal punto di vista finanziario, dovresti fare un po' più attenzione. Potresti essere ingiusto verso i tuoi colleghi di lavoro e avere dubbi senza ragione, Sagittario. Da giorni credi che qualcuno stia cercando di danneggiarti o di farti sentire meno importante davanti ai tuoi superiori, ma ciò non è vero. Dovresti iniziare a riconoscere i tuoi errori, poiché è probabile che tu sia più in errore degli altri. Segno Capricorno. Capricorno, oggi è il giorno in cui continuerai a scalare con fermezza e successo la scala della carriera. La tua natura disciplinata e determinata ti aiuterà a ottenere successo nella tua carriera. Continua a perseguire i tuoi obiettivi professionali con impegno e integrità. Apprezza le ricompense e le opportunità che accompagnano il riconoscimento del tuo duro lavoro, poiché il tuo impegno per la carriera porterà a progressi e successi continui. Amore, se hai una nuova persona speciale nella tua vita, potresti essere profondamente innamorato. Metti in mostra il tuo fascino. Hai tutto il necessario per attirare chi ti circonda. Lavoro e denaro, sfortunatamente, per coloro nati sotto il segno del Capricorno, le finanze oggi sembrano più strette. Pertanto, rifletti attentamente su come devi effettivamente spendere i tuoi guadagni e indaga accuratamente sulle ragioni della mancanza di denaro. Oggi avrai una giornata di lavoro positiva, Capricorno. Alcune settimane fa, pensavi di non essere in grado di padroneggiare tutto questo come lo fai ora? Devi avere più fiducia in te stesso. Il tuo capo riconosce il tuo miglioramento e presto riceverai congratulazioni e una ricompensa finanziaria. Segno Acquario. Acquario, oggi è caratterizzato dal continuare a risolvere creativamente i problemi. La tua natura visionaria è unica spicca nel trovare soluzioni originali per le sfide. Esplora nuovi concetti, condividi le tue idee creative e cerca approcci unici nei tuoi obiettivi. Abbraccia il tuo pensiero progressista, sapendo che le tue soluzioni creative scorrono facilmente e aprono nuove opportunità. Amore, anche se opposti si attraggono, cerca comunque di raggiungere un equilibrio, poiché le relazioni estreme non durano a lungo. Grazie a Venere, oggi le promesse si manifesteranno. Hai aspettato questa chiamata. Lavoro e denaro, la tua professione è molto forte, ma non rimandare più le decisioni. Sei sicuro di ottenere una ricompensa. Dal punto di vista finanziario, non ci sono novità. Per fortuna, non ci sono problemi finanziari significativi. Le stelle ti sostengono, Acquario, quindi oggi potresti avere una giornata felice, ma dipende da te. Sforzati di farlo accadere, poiché porterà grande felicità alle persone a cui tieni e tornerà da te. Segno Pesci. Pesci, oggi ti porterà a una connessione spirituale più profonda e alla crescita di comprensioni più profonde. La tua natura empatica e intuitiva si sviluppa in momenti di riflessione interiore e connessione spirituale. Partecipa alla meditazione, esprimi l'arte o sperimenta. Fidati della saggezza e della serenità che scaturiscono dal tuo viaggio spirituale, sapendo che il tuo legame profondo con il mondo spirituale si espanderà costantemente, portando guida e pace interiore. Amore, anche se hai rinunciato all'iniziativa iniziale, considera di invitare il tuo partner a un appuntamento normale e amichevole, che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Salute, lascia che la tua mente e il tuo corpo si ripossino per rigenerarsi. In seguito, sarai in grado di rilassarti con nuova energia. Lavoro e denaro, la crisi è passata, e hai un'opportunità straordinaria. Saturno allontana le tue preoccupazioni e ti conferisce ulteriore forza. Tieni d'occhio, pesci, o qualcuno potrebbe cercare di spingerti nella direzione sbagliata con bugie.